Quale senso delle istituzioni può avere un sottosegretario di istruzione che non si interfaccia con la scuola nel fare una visita anche privata ad uno studente per i suoi successi scolastici? O forse non sai il sottosegretario della buona scuola che dietro, sotto, sopra, fianco nel successo scolastico di uno studente, vi è complementare e sinergico a quello di una famiglia splendida il lavoro quotidiano di una scuola che programma, ricerca, sperimenta e attua percorsi non sempre semplici e lineari, come nel caso di Samuele, dalle cui difficoltà siamo riusciti a trovare opportunità e risorse per una prospettiva inclusiva? Ha preso carta e penna il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Eschilo di Gela, Giochino Pellitteri, stigmatizzando la presenza di Davide Faraone, giorni e dietro, in città per far visita allo studente Samuele Di Natale, 19 anni, il ragazzo autistico che ha affrontato, superando legregiamente, gli esami di maturità proprio nella scuola diretta da Pellitteri. Forse non comprende il sottosegretario dell'Istituzione di Gela Pellitteri, possibilmente mal diretto dai suoi amici politici, che la sua visita, compiuta senza una rappresentanza della scuola, è una contraddizione in termini con la sua funzione istituzionale? Se poi, e pubblica senza la scuola, la visita non rivela sensibilità, prossimità e senso delle istituzioni, ma diventa un'occasione apertamente maldestra di sfruttamento a fine politico e propagandistico dei problemi e del lavoro altrui. E dire che per consentirgli di fare in futuro altre visite per congratularsi con studenti come Samuele, di cose da comunicargli, continuo Pellitteri, ne avremmo avute e ne abbiamo parecchie, non ultimo il rispetto dovuto alla specificità di ciascuna scuola e della sua autonomia, e speriamo che a breve ce ne dia l'opportunità, magari senza tv e amici di partito, al seguito ha lo solo scopo di cercare soluzioni per migliorare la capacità della scuola di affrontare nel presente e nel futuro situazioni e casi come quelli di Samuele o di Giulia. Mi dispiace in questa vicenda che quanti ne hanno curato in qualche modo la gestione in passato e sempre da me e dalle scuole che ho avuto modo di dirigere, sono stati trattati con il rispetto che si deve a chiunque svolga o abbia svolto funzioni istituzionali. Prendiamo atto con un rammarico del comportamento altrui, chiude il dirigente scolastico, che definire irrispettoso è eufemistico, ma continuiamo a svolgere il nostro lavoro e la nostra funzione educativa col senso istituzionale che ci appartiene, senza prendere esempio da chi il buon esempio ce lo dovrebbe dare, senza però riuscirvi.